In occasione della festa della donna il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l'assessore alle politiche sociali Nino Savastano hanno deposto un fascio di mimose davanti all'opera 26 rami spezzati di Pietro Lista e Giovanni De Rosa eretta nel cimitero monumentale di Salerno in ricordo delle 26 giovani migranti sbarcate senza vita in città nel novembre del 2017. Altri fasci di mimose sono stati deposti anche sulle tombe delle ragazze che hanno trovato sepoltura nel cimitero salernitano. Naturalmente è un messaggio simbolico che fonda le sue determinazioni su un aspetto relativo a valori non negoziabili, i valori dell'umanità, dell'accoglienza, della solidarietà sono dei valori che in qualche modo devono essere di guida anche nelle tempere attuali. Noi viviamo un momento complicato in Italia e credo che qualche piccolo gesto simbolico nella direzione giusta possa essere utile a tutti, utile alla democrazia, alla costruzione delle coscienze. Non ci si può girare dall'altro lato. Chi ha avuto l'avventura di guardare ieri sera Piazza Pulita avrà avuto un'impressione, un colpo allo stomaco per le condizioni dei campi di contenimento, non saprei come definirle in Libia. Ora, a differenza delle avventure e delle disavventure orribili della Shoah, qui nessuno può dire non sapevo. Le cose nella contemporaneità si svolgono sotto gli occhi di tutti e ciascuno nel suo intimo e come parte politica deve farsi carico di tragedie inenarrabili che marcano e marchiano d'infamia la nostra epoca. Io credo che un gesto simbolico, semplice, sobrio, possa contribuire anche minimamente a fare in modo che ci sia un ricordo, perché queste cose non si devono dimenticare, e in qualche modo un sommovimento di coscienza anche individuale.